Bentornati o miei scomunicati nel Sacro Ordine SBC Games per un altro capitolo delle Top 5 aggiornate alla patch 1.45. Abbiamo la Top 5 dei Supports, quindi degli Healer diciamo, cioè quelli supporti puri che vengono più giocati e hanno più impatto nelle varie fasi di gioco. Sono abbastanza lineari le varie Tier List, perché comunque i Support intesi come Healer sono molto pochi, ci sarà tantissimo da dire sui personaggi utility, quelli sarà veramente tosta a gestirli. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sulle uscite nuovi video. Twitch e Instagram, su Twitch vado live con diversi giochi se volete interagire con me in tempo reale andate a metterci follow e su Instagram posterò poi queste Top 5 che sto mettendo così vi possono rimanere da parte se volete tenerle. Chiaramente le riaggiorneremo ogni mese se usciranno nuovi personaggi che cambieranno le cose, quindi non ci perdiamo oltre, cominciamo subito, se il video vi piace lasciate un pollicione up. Molto semplice ragazzi, in realtà i personaggi quelli sono, si casca anche abbastanza lì, ecco. Allora, abbiamo, partiamo dal mid-game che è quello un pochino più veloce da discutere, più che altro quello che ci dà le basi per tutto. Il motivo per cui non mettiamo Numisu nel mid-late game ragazzi perché, come vi ho spiegato nel video delle Top 5 dei DPS, i mid-late game, che tra l'altro vi elenco qui sopra a quel video, i mid-late game hanno un modo di essere giocati, è difficile che si esca da quel modo, da quella tipologia. Rowan, best personaggio, ma in realtà proprio overall, tra i free-to-play, best personaggio ever di Half-Carena, fa da padrone in qualsiasi tier list di qualsiasi tipo e mi sento di metterlo fra i migliori anche in mid-game perché è vero che Rosalyn vi permette di pushare molto di più, ma a livello di supporto, Rowan è veramente troppo sgravato. Già, allora, più che altro nel late game, diventa veramente forte, perché al 161 con la ulti dà 75 di energia invece che 60, mi sembra, a botta e le cose cambiano. Poi, vabbè, c'è cura a uno sproposito, con la ulti stunna anche gli avversari, insomma, in endgame fa anche da tank, infatti lo vedrete poi nella Top 5 dei tank, cioè è veramente una roba Top 5 frontliner, diciamo, è veramente una roba assurda, veramente una roba assurda. Ora, questa Top 5 è una Top 5 free-to-play, che prende in considerazione solo il free-to-play. Metteremo nelle Honor Mansion, quindi nelle menzioni onorevoli, Talin e Elijah Lyle, vi spiegherò dopo perché. Primo perché sono me triggerate, e secondo perché parecchio da discutere su questa cosa, c'è un motivo per cui, questo è più che altro per i nuovi giocatori, quelli che non sono in endgame, che non sanno come funziona l'endgame, e vi spiegherò poi perché questi due personaggi vengono considerati tra virgolette free-to-play a un certo punto, soprattutto Talin. Rosalyn cura il main DPS, ci tiene in vita al main DPS e gli permette di fare danni spropositati, quindi assolutamente personaggio che in midgame e lategame ci cambia completamente la vita, soprattutto se giochiamo un personaggio in main DPS mage, perché se va che va tutto sulla ulti, danniamo e con la ulti. Tasi, sicuramente per l'utility, anche perché comunque se va dietro un alleato lo cura, poi vabbè per il Banish, in realtà è più un personaggio utility, lo vedremo poi anche nella Top 5 degli utility, però col fatto che comunque cura, diciamo che lo possiamo inserire anche nella Top 5 supporti di questo genere. Abbiamo poi anche Nemora, che può essere utile nel caso che non riescano Rowan e Rosalyn, e quelli sono cazzi, soprattutto in lategame, midgame ancora ancora a morsi e bocconi si va avanti, il lategame diventa veramente un macello senza Rowan e Rosalyn, ragazzi. Conosciamo anche per lo charm, la ulti cura, in realtà in endgame cura veramente tanto rispetto a lategame e midgame che sembrano un curo in cazzo, però diciamo che è un pochino più bisfrattata, perché comunque, cioè da quando è uscito Rowan ragazzi, cioè Nemora ha perso tantissimo, Nemora prima era il miglior support del gioco, da quando è uscito Rowan ha perso proprio totalmente, quindi passa proprio tanto un secondo piano, perché non la puoi neanche giocare insieme agli altri PG. Perde veramente tantissimo, però comunque fa il suo porco lavoro, soprattutto nella torre dei Wilder rimane molto molto forte in generale. Poi con la mobilia ha acquistato anche un pochino di utility in più. Ci mettiamo Arden, anche se non cura ragazzi, prima di tutto perché non c'è un quinto supporto in mid-lategame da giocare, ma anche perché è veramente molto molto forte come sostituzione in alcuni casi, lo rivedremo anche negli utility, però Arden è talmente forte in mid-lategame che merita di essere infilato in diverse categorie e poi perché veramente ragazzi non avevo un quinto membro degno di nota nel mid-lategame, cioè mi sarei ritrovato a fare top 5, top 4 supporti in mid-lategame. Magari fatemi sapere cosa ci avreste messo voi in mid-lategame, cosa secondo voi ha cambiato le cose, però chiaramente c'è qui è chiaro che se andiamo, diciamo che questo, cioè sto considerando un personaggio full supporto perché poi se ci buttiamo sull'utility, chiaramente ci sarebbero le menzioni onorevoli da fare tipo Atalia, che però non è proprio free to play, Atalia, Nara, eccetera, però questi fanno parte delle categorie dei quinti membri, quelli che a me piace chiamare quinto membro, che sono le sostituzioni che andiamo a fare per vincere i vari stage in maniera situazionale. Invece comunque Arden è un personaggio che in realtà sta molto evergreen, a parte soprattutto in mid-game a prescindere. In late-game è un pochino più situazionale in alcuni punti perché magari ci troviamo a combattere contro team comp che hanno danni volatili, danni away che vanno a colpire anche la backline e allora a quel punto diventa molto tosta per il nostro povero Arden sopravvivere perché comunque rimane, è un leggendario a stat minori e poi si ferma al 160, però comunque mi sento di suggerirlo perché vale veramente la pena come personaggio e poi finché non uscirà il support Graveborn in realtà perché Numizu in mid-late-game non è così forte e poi ci fa perdere il bonus di fazione. In mid-late-game ragazzi è Lightbeer e Ray Wilder, punto, cioè non esiste altro. Poi se uscisse magari il support Graveborn che hanno promesso un bel support di quelli ignoranti allora a quel punto si può discutere diversamente, magari di inserire lui al posto di Arden in generale ma boh, boh, comunque rimane il fatto che si gioca da Lightbeer comp in mid-late-game. Allora magari vi linko qua sopra per chi è mid-late-game e vi linko le bibbie al mid-late-game per vedere anche le team comp e come ci si comportano le varie cose. Endgame, le cose cambiano sostanzialmente parecchio perché Rowan non si scalza di lì. Rowan sta in tutte le team comp top tier, tutte, tutte, dalla prima all'ultima. Passa al secondo posto Tasi perché fa parte della team comp più forte Endgame che è la Wilder più Safia comp, free to play diciamo, senza considerare quelle da delle balene. Quindi la mettiamo al secondo posto perché Rosalind perde molto in Endgame considerando che non si giocano più come main DPS e mage ma personaggi agility a parte Safia ma Safia con Rosalind non ci fa un cazzo perché Safia non ha bisogno di ultare più volte col fatto che ha il chainling, l'incanalamento. Quindi il problema è che non sfruttiamo effettivamente una doppia ulti di Safia, di solito con una ulti uccidiamo praticamente tutto. perde un po' e poi abbiamo bisogno di fare tanto controllo per ottenere il meglio da Safia. Rosalind terzo posto perché comunque si gioca con Gwyneth e fa dei porchi danni con Gwyneth col fatto che gli permette di tirare doppia ulti e di fare incazzare la SI a più 20 che spona i fantasmini che tirano altri skill come copie di Gwyneth diventa veramente molto interessante. Poi abbiamo Nemora che comunque continua a rimanere nei paraggi come healer e come supporter in generale. Nella Wilder più Safia comp sparisce un po' perché comunque c'è sempre Rowan però a volte si gioca, si gioca anche lì come sostituzione. E poi Numizu a mio parere vabbè come healer ragazzi perché comunque rimane che non abbiamo altri healer free to play perché poi ci dobbiamo buttare su questi. Come healer sta prendendo piede secondo me sta prendendo piede Numizu anche come utility in generale soprattutto nella Gwyneth comp secondo me diventa un sostituto per Rosalind molto molto valuable anche per il fatto dei totem e comunque cura veramente tanto, cura veramente tanto in generale. Non cura a livelli degli altri PG ragazzi, infatti sta quinto e lo lasciamo qui perché non abbiamo un altro supporto degno di nota però in generale sarebbe più come quinto membro diciamo però col fatto che cura ce lo mettiamo e ci fa piacere averlo qui con noi il nuovo Numizu reworkato. Aspettiamo anelanti l'arrivo del nuovo support Greyborn però per ora siamo con questi qua che li conosciamo, sono sempre loro. Le honor mansions, le menzioni onorevoli, beh abbiamo Talin e Elijah Laila, sono a mano bassa i due supporti più forti del gioco insieme a Rowan. Le mettiamo come menzioni onorevoli perché non sono propriamente free to play ma dal capitolo 27, 28 in poi quando abbiamo usato le GM per i vari PG e ci siamo fatti tutti i PG core, questi due sono i primi due PG che dovremo fare, che dovremo alzare. Sono giocabilissimi già a miti CPU, più che altro Talin perché Elijah Laila diciamo che esplode di valore veramente tanto a ascesa perché se non si è ascesa non è in grado di leggere, in alcuni stage diventa molto tosta giocarla, ci vogliono tanti retrai. Quando la portiamo ascesa e con la mobilia a tre stelle cambia completamente di volto, anche Talin ascesa cambia molto di volto. La mettiamo fra i top 5 supports, in realtà Talin streba anche nella top 5 DPS, nella top 5 tank, nella top 5 Christy e madonne perché veramente troppo forte sotto ogni punto di vista, fa tutto e lo riesce a fare molto bene e con la mobilia responda molte più volte e diventa anche molto più dannosa in generale, quindi veramente molto molto interessante. Vabbè Elijah Laila perché fanno, cioè come sono a mano bassa il format supporto, il personaggio supporto più forte del gioco. perché fanno tutto a livello di supporto, fanno veramente tutto. L'unica cosa che non fanno in realtà forse è curare, ecco mettiamola così, però a livello di utility sono veramente troppo forti, la fretta è troppo sgravata. Troppo sgravata in questo gioco quindi cioè è veramente eccezionale. Vengono dopo Talin perché sono molto più dispendiose, Talin magari riusciamo a giocarla già agli inizi. Talin la vediamo nella Gwyneth Comp, la vediamo a volte anche nella Wilder Comp in sostituzione a alcuni personaggi, molto difficilmente ma la vediamo anche lì. E poi vabbè, sta nella, insieme anche a Elijah Laila, sta nella Wild Comp, la Full Lockout con Talin, Rowan, Elijah Laila e Ziz e Meira. Che è la team comp più forte attualmente nel gioco e poi insomma la vediamo anche in altre team comp. però in generale come sostituzione, in generale come quinto membro, passatemi il termine perché in realtà è un must have, un must play, sta benissimo, è un jolly che si gioca in tutte le team comp. Perché è veramente troppo sgravata in generale Talin. In realtà abbiamo concluso con i support che finiscono qua, si fa abbastanza la svelta con loro. Beh concludiamo qua con questo video, lo spero che vi sia piaciuto, se si lasciate un pollicione up e mi raccomando commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questa tier list, cosa sostituireste, cosa secondo voi ho dimenticato. In realtà c'è stiamo parlando di una top 5 di healer a tutti gli effetti, quindi ci sono altri personaggi healer, a meno che non andiamo su Ulmus che è pessimo. In realtà potremmo metterci volendo, volendo Saurus, perché comunque Saurus cura, però cura soltanto con la Issaia più 30 e è un dispendio enorme e non lo usiamo come supporto. Siamo che ha comunque un top, una menzione nel top 5 comunque già dei DPS, poi avrà la menzione anche in altre categorie, quindi rimane un po' così. Per ora possiamo concludere qua ragazzi, io credo che ci siamo, vi ricordo a fine video tutti i link per le varie playlist da andare a vedere, se non avete ancora spulciato tutto il mio canale per imparare molte nuove cose sul gioco. Quindi concludiamo qua, io sono Sebigy ragazzi e noi ci vediamo prossimamente per un altro video.